musica 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 sono riuscita a prendere il treno per andare a l'internet non funziona, spero di usare il wifi e invece non è sicuramente a trovare internet vita, ma ho deciso di non tornare il treno e per il resto no, tutto bene, ho avuto una cosa pintata, veramente e ho le goccele chiaramente, ma questa non l'ho aggiornata nessuna quando mangiare ho dimenticato la pochetta e il fratello è ovvio che dimentico la pochetta e il fratello quando devo andare alla propria parte dove devo mangiare perchè no in ogni caso benissimo si arriva a Firenze, sono sacchissima a mangiare andatevi a fare e ci vediamo a Firenze musica 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 oh mio dio Dovrei arrivare in un video di Ellie Grandissimi e io mi rapardo Sono lì c'era a trovare tutti quanti E stiamo cercando di trovare un posto dove andare a stirci E finire, cioè non sembrare degli psicopatici In mezzo a una stazione E' verde! Vai! Allora abbiamo raggiunto Piazza dell'Indipendenza Che a quanto pare è una piazza E' tutto molto buio Mi è stato detto che è una piazza Quindi siccome c'è una piazza non è neanche male C'è dell'ombra che vuol dire che non mi abbrustolirò Visto che sono bianca come una mozzarella Abbiamo finito di fare tutte quante le cose Abbiamo finito di fare tutte quante quelle cose là E perché divisa? Una bottiglia di birra, ok Cazzo ci ho messo un nome in mezzo C'è schifo In ogni caso Perfetto E adesso penso che mangeremo qualcosa perché io sto morendo di fame Penso E poi dopo faremo un altro bravo Viva il cibo Ok Tre, 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 tre Fortezza? Siamo tutti quanti insieme e c'è un gruppo che è in partita, a quanto pare. E una coppietta si è spostata perché eravamo in troppi. Tutti fanno di cantare quella di Darren, chiaramente. Fanno! Sì, sì, sì. Non so, qualcuno ha visto Ciclip? Sì! Ma mi sento la sera che ce l'hanno cantando questa canzone con il magliale che si Noi, noi, noi Noi, 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 noi Noi, no, no, no Noi, no, no, no e alla fine ci siamo tutti quanti fermati a mangiare il gelato o meglio la granita e questa è la granita più buona della storia oh mio dio questa granita mi piace un sacco è naturale c'è addirittura i semi dentro siamo arrivati in centro di lento siamo andati lato non si sa bene dove stiamo andando penso sia il disay store non ne sono completamente convinta stiamo seguendo la donna con la chitarra no no vado in giro così normalmente lei è la signora con la chitarra la signora questo è l'ultimo abbraccio di gruppo probabilmente che si farà anche sempre non so se sarà magari in una che stazione va bene non importa e quindi abbiamo deciso di filmare tutti quanti siamo sperando di non uccidermi 3 2 1 grazie a tutti Buonanotte! 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 Hola bestiore! Hola mamma! Hola bestiore!